Speriamo che non sia la migliore della mia odetta, speriamo che le cose cambiano in meglio della mia odetta, però diciamo una cosa diversa, non cambierà assolutamente niente se non cambieremo noi in primis quest'anno. Lo diciamo, tutti noi lo diciamo, anno per anno, quest'anno sarà diverso, quest'anno farò queste cose, quest'anno farò le cose che non ho fatto l'anno scorso, e poi ci ritroviamo magari il prossimo anno, tutti insieme magari, sicuramente sarà così, e diremo, o di nuovo rimandato a cose che avrei dovuto fare, allora facciamo un altro tipo di cose. Il nostro augurio è che quest'anno diventi speciale proprio perché diventeremo noi speciali, e decideremo di fare quelle cose che non abbiamo fatto prima, non abbiamo fatto quest'anno, qualunque cosa essa sia, va bene? L'importante, come dice qualcuno, è di vivere pienamente secondo dopo secondo, perché quel secondo lì non tornerà più, ed è vero questo. Che è un'amica, quindi sentiremo, grazie a tutti. Buon anno, ciao. No, ciao. No, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.